Acli Aretini a convegno, Presidente, dove stanno andando le Acli? Si impegnano nuovamente anche nel mondo politico per costruire una comunità diversa? Sì, c'è in questo momento una grande responsabilità da parte di tutta la società civile, le Acli stanno cercando di interpretare il loro ruolo, in particolare cercando di rigenerare comunità per ricostruire il paese, che per noi non è uno slogan ma è il lavoro che facciamo attraverso i nostri circoli diffusi nel territorio, attraverso i nostri servizi attenti alla persona, pronti a costruire nuovi modelli economici. La sfida è complessa e difficile, però il coinvolgimento dei cittadini è l'unica vera strategia di partecipazione democratica che può rigenerare il paese, che può dare prospettive di crescita autentica, non soltanto quella crescita di PIL che abbiamo scoperto non essere sufficiente per la nostra società. A proposito dei cittadini, si rivolgono tutti ai vostri circoli, ai vostri servizi, c'è il grave problema del lavoro che poi si trasforma in disagio sociale, qual è l'impegno delle Acli in questo senso? Noi abbiamo chiesto al governo in questo momento di lanciare un piano straordinario per l'occupazione giovanile, sappiamo che la riforma del mercato del lavoro è importante ma non può portare nuovi posti di lavoro, mentre invece oggi abbiamo bisogno che i giovani abbiano delle prospettive, avere accesso al credito, avere una formazione rinnovata, avere anche degli sgravi per chi si mette in propria via un'attività. Questo diventa indispensabile in un momento come quello che stiamo attraversando, nel quale appunto la disoccupazione è certamente il primo problema dell'Italia.